Segreto, perché ho deciso di raccontarlo pubblicamente, ho avuto questa diagnosi di un tumore al seno a gennaio e ho fatto un percorso molto difficile di chemioterapia neodiuvante, cioè quella che si fa prima di fare l'intervento ora ho fatto un intervento purtroppo demolitivo e quindi ho fatto una mastectomia e non sono naturalmente l'unica persona ma entro in una statistica molto importante perché una donna su sette è colpita dal tumore al seno tra l'altro siamo nel mese della prevenzione per cui invito tutte le donne a fare prevenzione perché è molto importante soprattutto per evitare magari di fare un percorso così lungo bravi, vedevamo un filmato che è tratto da un documentario che tu hai girato su tuo figlio Nino no, non su mio figlio ma con mio figlio con mio figlio che ha 12 anni ha 12 anni, ha fatto questa regia insieme a me attualmente il regista più giovane è iscritto all'ASA in Italia, quindi credo anche nel mondo e abbiamo realizzato questo documentario che si chiama Be Kind, si gentile abbiamo intervistato, lui ha intervistato delle persone che avevano una diversità perché era un viaggio nel mondo della diversità ecco, da questo documentario è nata un'idea molto originale che oggi Sabina Parevicini ci racconta ci presenta qui a Buongiorno Regione, cioè il premio alla gentilezza abbiamo premi su tutto, la quantità, il venduto, il fatturato, la gentilezza sì, allora il progetto del documentario che ha avuto una vita bellissima perché abbiamo vinto una menzione speciale al Taormina Film Fest, siamo stati alla festa di Roma, abbiamo vinto una menzione speciale ai documentari Nastri d'argento 2019 e ci dispiaceva lasciarlo così, nel senso che gli abbiamo dato una vita ulteriore abbiamo creato questo premio, si chiama Be Kind Award, premio alla gentilezza e premiamo le persone che ci sono state suggerite dal pubblico no, per esempio nei programmi televisivi c'è la Rai, con Totocambia Rai 3, i nuovi eroi Rai 3, il commissario Muttabano Rai 1 e poi i due programmi della Sette Propaganda e Atlantide, c'è il cinema, i libri, il web, tantissime categorie la premiazione sarà il 13 novembre alla Casa del Cinema di Roma, la domanda è ma premiare la gentilezza vuol dire premiare cosa? volevo anche aggiungere una cosa, quest'anno come prima edizione la famiglia Frizzi ci ha dato il permesso di intitolare la Fabrizio Frizzi che della gentilezza ha fatto uno stile di vita e così con l'immagine di Frizzi ha risposto alla mia domanda esatto, c'è bisogno è difficile riconoscere la gentilezza ma in realtà la vita è la vera di noi tra l'altro abbiamo chiesto al pubblico di segnalarci i candidati e anche di votarli per cui è un premio che arriva dal basso quindi ogni anno premierete delle persone che si sono distinte in varie categorie per gentilezza l'Oscar della gentilezza in America non saranno scordi però sono molto rigidi però l'Oscar della gentilezza l'ha inventato Sabina Paravicini ce l'ha presentato qui oggi, ci vedremo sicuramente a risultati ottenuti ti ringrazio molto, saluti a tuo figlio e noi che raccontiamo spesso la tronaca nera oggi vogliamo fare un passo avanti, cari amici a casa vi raccontiamo cosa succede in quelle famiglie